E finisce così la partita allo stadio comunale di Chiavari, Virtus Entella-Monza 1-1, il Monza che pareggia, ahimè, 1-1 contro la Virtus Entella, ultima in classifica, delusione, questa partita non veramente mi ha aspettato molto di più, ancora un'ennesima delusione del Monza che pareggia 1-1 con l'ultima in classifica. Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video, qui è Giapez, oggi siamo di nuovo qui ragazzi in un nuovo video, siamo appunto qui nel Giapez, commentare il post partita di Virtus Entella-Monza 1-1, mi scuso con quelli che aspettavano la live sui consigli del fantacalcio, ragazzi però giocava al Monza alle 7 quindi o facevo i consigli del fantacalcio o portavo il post partita del Monza, ho deciso di, comunque visto che simpatizzo Monza, seguo anche la serie B quindi ho voluto, ho visto anche uno spezzone di partita del Frosinone, però niente di che insomma, finisce 1-1 comunque, segna al 53, bruttissimo primo tempo, veramente noioso, noioso, noioso il primo tempo, poche azioni, forse la Virtus Entella è stata leggermente più pericolosa rispetto al Monza nel primo tempo, però veramente c'è avuto pure più possesso palla rispetto al Monza, nel secondo tempo il Monza ha giocato un po' meglio però insomma non è che ha creato, non ha fatto una buona partita, oggi è al 53, comunque segna Brunori sul calcio di rigore, calcio di rigore che c'era della Virtus Entella, per poco non la para di Gregorio, la tocca, la spizza con le mani però comunque la palla era potente e entra uguale, non riesce a pararla bene, cioè la tocca ma la palla finisce comunque in gol, quindi l'aveva quasi parato il rigore, e niente, 1-0, passa 1-0 la Virtus Entella, c'ha pure più occasioni se non sbaglio per portarla sul 2-0, diciamo che oggi non è che ha giocato, oggi il Monza diciamo un punto è quasi per come ha giocato, per come ha fatto la partita diciamo che ci sta al pareggio, perché alla fine non è che ha dominato il Monza come fa di solito, queste partite, un Monza in forma queste partite finiscono un 0-4, un 1-4 sarebbe finita in un Monza in forma, in questo momento non sta in forma, mancano tanti giocatori, per esempio mancano Boateng che non mi ricordo se è squalificato, mancano pure Balotelli, mancavano tanti giocatori, comunque i giocatori principali, Scozzarella a centrocampo c'era, c'era D'Alessandro, ha giocato Diav, come si chiama, Barillà è entrato al novantesimo, per esempio, perché non hanno giocato Barillà e Frattesi? Che secondo me Frattesi gioca a titolare nell'Under 21, perché non ha giocato Frattesi? Mi domando, perché non ha giocato Frattesi e Barillà entrano al novantesimo, ha fatto un ampio turnover qui oggi Brocchi, comunque finisce 1-1 male perché la classifica adesso vede appunto, vado a leggere velocemente gli altri risultati, Cosenza-Ascoli 2-1, Pescara-Pisa 3-1, Frosinone-Reggiana 0-0, noiosa pure quella, mi sono visto uno spezzone di partita, Cremonese-Empoli, partita è stata rinviata, quindi ancora l'Empoli è prima in classifica e deve recuperare una partita appunto, poi Vicenza-Cittadella 1-0, Virtuista-Intella appunto Monza 1-1, Brescia-Pordenone 4-1, Venezia-Reggina col paccio del Reggina, Venezia che vince 2-0 col paccio del Reggina, Reggina sta risalendo piano piano, sta giocando bene questo Reggina, il Lecce che asfalta appunto 2-0 la Salernitana, veramente, penso che secondo me Lecce e Empoli verranno inserati, secondo me, e il Chievo finisce 1-1 con la Spal, quindi la classifica vede, Empoli prima a 59 punti, secondo Lecce a 55 punti, terzo il Monza a 51 punti, quarta la Salernitana a 51, aspetta, terzo il Monza a 51 punti, quindi siamo a meno 4 dal secondo posto e a meno 8 dal primo posto, con l'Empoli che deve ancora recuperare una partita, diciamo che ormai il primo posto è andato e quasi pure il secondo, diciamo, io simpatizzo Monza, non è che tifo Monza, ovviamente tifo Roma, però la simpatizzo Monza, mi sta simpatico e quindi, diciamo, la seguo perché mi sta simpatica, e poi la Salernitana a 51 punti, come il Monza praticamente, Venezia a 49 punti, quinto, Spal a 46 punti, Cittadella a settimo a 45 punti, ottavo il Chievo a 45 punti, diciamo che ho letto quelli che stanno in zona playoff. e si sta facendo sotto anche Regina, che piano piano sta avanzando e sta entrando nella zona playoff, pure Regina, la Virtustentella ancora è ultima, non capisco come è possibile pareggiare 1-1 con la Virtustentella ultima in classifica, squadra che praticamente sta quasi già in Serie C. Vabbè, non mi spiego tutto sto turnover che ha fatto oggi Brocchi, comunque, questi sono i risultati, questa è la classe che fate, se a me che ne pensate, e speriamo, insomma, che sto Monza può avvenire in Serie A, sarei veramente contento. Niente ragazzi, è qui è tutto, noi come al solito ci vediamo in un prossimo video, vi aspetto domani per il post partita della Roma, e domani sera per il post partita dell'Inter, se non sbaglio. E niente ragazzi, è qui è tutto, noi come al solito ci vediamo in un prossimo video, una prossima live, sempre e comunque forza del calcio, e daje Monza, te prego, devi venire in Serie A, daje! Grazie a tutti!